Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Sulla Liguria si susseguono giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato, con qualche passaggio nuvoloso o isolati e innocui addensamenti. Il regime di 20 settentrionali mantiene bassi i valori di umidità. Il dettaglio, oggi, venerdì 19 aprile, giornata all'insegna del tempo soleggiato e secco, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Si prevedono isolate formazioni nuvolose anche a carattere cumuliforme sui rilievi nel corso del pomeriggio. 20 settentrionali fino a moderati con locali raffiche a ponente sui rilievi di Levante, in attenuazione prevalenti brezze costiere sul centro Levante. Mare poco mosso, Levante tra poco mosso e mosso sul Savonese, sull'Imperese mosso solo localmente molto mosso nel primo pomeriggio. Temperature massime in aumento lungo la costa tra 22 e 24 gradi, nelle zone interne tra 20 e 22 gradi. domani, sabato 20 aprile, sulla nostra regione si manterrà a tempo soleggiato con qualche velatura in mattinata per il passaggio di sottili nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio formazione di locali addensamenti sui rilievi più consistenti in serata. Venti da nord, nord-est, tra deboli e moderati, con raffiche intorno ai 40-50 km orari, in particolare sulle coste del Ponente, prevalente a regime di brezza sul centro Levante, mare poco mosso sul centro Levante, fino a mosso a Ponente, localmente molto mosso sull'Imperese in mattinata. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 13 e 16 gradi, nell'interno tra 4 e 6 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 23 e 26 gradi, nelle zone interne tra 21 e 24 gradi. Dopodomani, domenica 21 aprile, giornata di Pasqua, soleggiato, disturbi con passaggi nuvolosi che nel pomeriggio potranno farsi più consistenti. Temperature quasi stazionare, in debole rialzo e clima secco. Venti da nord, nord-est, fino a moderati, rafficati, in temporanea attenuazione nelle ore centrali e in rinforzo in serata con raffiche intorno ai 50-60 km orari. Mare poco mosso sul centro Levante in aumento in serata, mosso a Ponente in aumento in serata, fino a molto mosso sull'Imperese. Temperature minime lungo la costa tra 14 e 18 gradi, nelle zone interne intorno a 7-8 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 22 e 25 gradi, nelle zone interne tra 20 e 24 gradi. La tendenza per lunedì, giornata di Pasquetta, previsione con affidabilità bassa ancora, parla di nuvolosità variabile, in aumento nel corso della seconda parte della giornata e possibili piogge in serata. Ma saranno necessari ulteriori aggiornamenti? Allora il consiglio è di seguire www.arpal.gov.it, la pagina Facebook di Arpal, ovviamente già fin d'ora. Buona Pasqua a tutti!